Oltre 7 kg di cocaina, 150 kg di marijuana e un chilo e mezzo di hashish sequestrati è quello che gli uomini della Guardia di Finanza di Torino durante un servizio di perlustrazione e controllo del territorio hanno trovato ad Alessandria in possesso di un cittadino di nazionalità albanese titolare di un'impresa edile. I finanzieri di Torino, insospettiti dall'atteggiamento nervoso del trentenne durante il controllo, hanno approfondito lo stesso perquisendo poi due box nella sua disponibilità dove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente abilmente occultata tra il materiale utilizzato dall'uomo per la propria attività economica. La droga sequestrata era custodita in voluminosi sacchi di plastica mentre l'altro stupefacente era suddiviso in panetti. Il tutto, immesso sul mercato illegale avrebbe potuto fruttare circa 2 milioni di euro. L'uomo dopo essere stato arrestato in flagranza di reato è stato condotto presso la casa circondariale di Alessandria a disposizione dell'autorità giudiziaria.